Eccoci ad un nuovo appuntamento. Oggi torno a parlarti di dipendenza affettiva. In questo video cercherò di spiegarti quali sono le sue caratteristiche e cercheremo insieme di indagare quali sono le convinzioni alla base di questo atteggiamento. Ciao, io sono Angelo e sono uno psicologo. Oggi, come ti ho detto in presentazione, torno a parlarti di dipendenza affettiva. Ho trattato questo argomento già in altri video. Se non li hai visti, te li lascio giù in descrizione. Ma perché tornare su questo tema? In verità l'ho fatto per rispondere alle tantissime richieste che ho ricevuto. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì alle otta e mezza, sul mio profilo Instagram sono in diretta per parlare di psicologia, autostima, relazioni. Diverse persone durante la diretta mi hanno chiesto di trattare questo argomento. Volevano sapere quali erano le caratteristiche della dipendenza emotiva, quali erano le sue cause. Ho deciso quindi di rispondere alle numerose domande in questo video. Ma prima di andare avanti, ti ricordo di iscriverti al mio canale. Qui ti parlo di psicologia, autostima, crescita personale. Mi raccomando, iscriviti e clicca sulla campanellina delle notifiche. Così non perderai nessun video. Se poi vuoi anche tu seguirmi in diretta, alle otto e mezza, dal lunedì al venerdì, mi trovi su Instagram. Ma entriamo nel vivo e chiediamoci quali sono le caratteristiche della dipendenza emotiva. Prima di ogni cosa, è bene sottolineare che la dipendenza emotiva è un modo patologico di vivere le relazioni. Le persone che soffrono di questo problema tendono a vivere le relazioni con ansia, angoscia, a volte disperazione. Ma quali sono le caratteristiche della dipendenza emotiva? Per rispondere a questa domanda è importante analizzare le parole. Dipendenza emotiva. La prima parola ci sta a indicare come la persona viva una vera e propria dipendenza nei confronti della relazione. La persona che soffre di dipendenza emotiva sente che la relazione è qualcosa di necessario, di indispensabile alla propria vita. Non è raro infatti che le persone provino una grande ansia e una grande angoscia nel momento in cui immaginano di perdere la loro relazione. Alcune volte le persone non riescono a tollerare nemmeno un breve allontanamento del proprio partner. Gioia mi parlò della sua dipendenza affettiva e mi disse che ogni volta che il marito per lavoro doveva andare fuori un paio di giorni, lei si sentiva disperata e angosciata. Abbiamo cercato di capire se questo avvenisse in altre situazioni e lei mi disse che provava la stessa emozione ogni volta che il marito si metteva in poltrona e mentalmente si assentava a vedere il calcio. È importante comprendere che le persone che soffrono di dipendenza emotiva percepiscono un allontanamento fisico o emotivo come un abbandono. La sola idea che l'altra persona non possa essere emotivamente disponibile le fa sentire angosciate e abbandonate. Le persone che soffrono di dipendenza emotiva vanno alla ricerca costante di una conferma, della conferma che la relazione esiste ancora. La fame affettiva, il bisogno d'amore può portare queste persone a diventare particolarmente possessive. Cosa c'è alla base della dipendenza emotiva? Come ti ho detto noi possiamo capire la dipendenza e le caratteristiche di questo problema analizzando le parole. Dipendenza. Questo termine significa che è una necessità, è un bisogno, è qualcosa che l'individuo deve assolutamente ottenere. Ma perché c'è questo bisogno? Molto spesso le persone dipendenti trovano nella relazione il loro valore. Che cosa significa? Non è raro infatti che le persone dipendenti pensino di valere di essere brave persone solamente nel momento in cui hanno una relazione. Questo ci fa capire come mai le persone dipendenti vedano la relazione come una necessità. Loro collegano in maniera molto stretta il loro valore, il loro essere persone brave, persone amabili solo in funzione della relazione. Alla base della dipendenza vi sono due convinzioni principali. La prima è quella più profonda, quella che dice che io non valgo, che io non sono una brava persona, non sono amabile. La seconda, leggermente più superficiale ma sempre molto invalidante, è quella che dice che io valgo solamente se ho una relazione. L'unico modo per evitare di sentirmi, di non valere, di sentirmi una brutta persona, è quello di avere una relazione. Questo ti fa capire come mai le persone dipendenti emotivamente vadano alla ricerca costante di conferme. Vedano l'allontanamento del partner come una catastrofe. Perché in verità quell'allontanamento non è un semplice distacco, ma è una conferma del loro non valore, della possibilità di venire abbandonate perché non sono brave persone. Abbiamo rintracciato questo schema di pensiero in franco che è venuto a chiedermi aiuto perché la sua compagna doveva trasferirsi per alcuni mesi lontano da casa. Lei era un'insegnante e aveva ricevuto una richiesta di supplenza. Doveva assentarsi per almeno tre mesi. Se da un lato Franco era felice per il lavoro della compagna, dall'altro è caduto in uno stato di angoscia e di ansia nel momento in cui ha scoperto che doveva trasferirsi. Abbiamo cercato insieme di capire quali schemi di pensiero, quali atteggiamenti erano la base della sua sofferenza. Franco mi ha detto che il solo pensiero che lei si potesse allontanare lo buttava in un stato di angoscia perché lei poteva trovare qualcuno migliore di lui. Abbiamo allora indagato su questa sua affermazione e lui mi ha detto che se lei avesse trovato qualcun altro lo avrebbe logicamente lasciato e questo avrebbe confermato che lui non è una brava persona, che è una persona non amabile. Franco lavorò tantissimo per risolvere questo suo schema profondo, questo suo senso di non amabilità ed è quello che accade a tantissime persone che soffrono di dipendenza emotiva. Chi vuole uscire dal loop della dipendenza emotiva è fondamentale che vada a lavorare sugli schemi di pensiero sottostanti. Per capire la sequenza della dipendenza emotiva possiamo immaginare una sorta di diagramma. Sopra in alto c'è l'idea di dover avere una relazione perché la relazione è necessaria. Io ho bisogno di questo rapporto, ne ho bisogno perché senza questo rapporto io non valgo, io non sono una bella persona. Questa sequenza di convinzioni è quella che spesso risconto nelle persone che mi chiedono aiuto. È fondamentale comprendere quindi che la dipendenza emotiva, la fame relazionale è la conseguenza della convinzione di non essere amabili, la convinzione di non essere delle brave persone e di non meritare amore. Come si generano queste convinzioni profonde? Ognuno ha una storia individuale e molto spesso è difficile capire l'origine di queste credenze così profonde. Quello che ho analizzato molto di frequente è che le persone che credono di non essere amate hanno avuto un rapporto molto problematico con i propri genitori. Da piccoli si sono sentiti abbandonati, non accettati, sono stati allontanati dai propri genitori. Queste esperienze di vita hanno portato il bambino a credere che queste esperienze sono accadute per causa loro, perché loro non erano degni dell'amore dei genitori. Il bambino piccolo non è in grado di comprendere la complessità della vita e tutte le situazioni che possono avverarsi e allora si autoconvince che quello che è accaduto è fondamentalmente causa propria. Un allontanamento dei genitori o dei genitori particolarmente freddi vengono interpretati come conseguenza della propria non amabilità. Molto spesso questi schemi sono così profondi che c'è bisogno di un lavoro lungo e costante per sbloccare le proprie risorse. Spero che questo video ti abbia aiutato a comprendere che cos'è la dipendenza emotiva, quali sono le sue caratteristiche e quali sono gli schemi di pensiero che la caratterizzano. Se hai delle domande, delle curiosità su questo argomento, tranquillamente puoi scrivere nei commenti. Poi ti invito nuovamente a seguirmi su Instagram e alle otto e mezza nelle mie dirette. Ci vedremo lì e continueremo a parlare di psicologia, di relazioni. Poi ti ricordo che da qualche mese è aperto anche il mio canale Telegram. Se vuoi entrare a far parte del mio gruppo in descrizione troverai il link e noi ci vediamo al prossimo appuntamento.